Un incidente ha distrutto una famiglia allo schianto mortale sulla strada provinciale che collega Barengo a Cavaglietto nel Novarese a perdere la vita già da Cantoia, studentessa di 13 anni, e la madre Sabrina Boscolo, 56 anni, che era la guida. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 7.30 di ieri mattina a Cavaglietto. Madre e figlia si stavano dirigendo da Vaprio d'Agonia, dove abitavano Aghemme, dove la donna lavorava e la ragazzina andava a scuola, quando per causa ancora da accertare l'auto si è scontrata con una vettura che viaggiava in senso opposto. La ragazzina è morta sul colpo, la mamma rimasta gravemente ferita e è stata elitrasportata all'ospedale di Novare in condizioni disperate, dove purtroppo è deceduta, ferito lievemente il guidatore dell'altra vettura.